Bonucci si è incazzato ragazzi Leonardo Bonucci si è incazzato come una belva devo usare parole forti esattamente come come insomma le ha utilizzate lui carissimi ragazzi allora sta per uscire il grandissimo gioco di football manager se siete degli appassionati signori io vi consiglio di acquistarlo da Eneba Eneba è un marchio che è abbastanza importante a livello mondiale poco conosciuto in Italia ma diventerà secondo me il marketplace di punta per i videogiochi ragazzi potrete poi trovare sotto il link in descrizione il codice sconto andate cercate il gioco lo acquistate o avete un ulteriore sconticino e ringrazio Eneba per questa meravigliosa partnership con il mio canale e quindi grazie di cuore per sostenere tutte le mie attività qua su youtube Ragazzi ripeto trovate sotto qualsiasi cosa se avete problemi contattatemi su instagram sono pronto a darvi qualsiasi tipo di supporto per l'acquisto Ora ragazzi dobbiamo parlare di Bonucci perché io qua ho le parole di Bonucci Sabato dice ero un po' affaticato ma avevo dato ad Allegri la disponibilità di giocare poi ha scelto Allegri e vedendo la prestazione ha fatto bene Sono polemiche frivole mancano di rispetto all'essere umano noi cerchiamo sempre la vittoria sia col club che con la nazionale e io non mi sono mai tirato indietro è giusto esserci sempre Una polemica che si è sgonfiata dal momento in cui poi la nazionale ha rimandato indietro per esempio Chiellini Chiellini che aveva rinunciato a giocare con la Fiorentina per un problema muscolare è un affaticamento anche una roba lieve non troppo pesante Dopo l'affaticamento ragazzi il buon Chiello è andato in nazionale non ha giocato con la Juve in occasione di Juve Fiorentina E anche da lì è andato via perché ha visto che l'infortunio era un pelo più pesante e anche qua Chiellini si è un po' inalberato Perché tanti tifosi lo hanno accusato di essere poco serio nei confronti del club che gli paga lo stipendio e di essere più propenso ad ammiccare il progetto nazionale con Mancini In vista ovviamente dei mondiali di Qatar 2022 Ora signori io francamente vi dico la mia opinione da tifoso non riesco a capire tutte queste polemiche nei confronti di questi due Ci sta che qualcuno mi dica bisogna cambiare allora il tema è la leadership come ne ho parlato io nel vecchio video Però l'impegno profuso da Bonucci e Chiellini in questi anni non può essere messo in discussione oggi perché vogliono comunque giocare in nazionale E allora scusate quando hanno convocato Di Bale infortunato alla nazionale con l'argentina ci siamo adiratti Però era un infortunio serio quello la riprendeva da una lesione Qua si parlava di affaticamento in una settimana spesso un affaticamento rientra E io vi dico anche una cosa meglio far giocare una partita a settimana e non rimanere due settimane senza fare una mazza Perché poi se avete visto anche in campionato quando il campionato si ferma per la sosta nelle nazionali In genere se il gruppo è abbastanza nutrito di gente si organizzano delle amichevoli con squadre di categoria inferiore Per cercare sempre di avere quel ritmo partita Quindi le partite si fanno Ora io sono contro le nazionali perché secondo me sono uno shock agli allenamenti Ai campi che vengono utilizzati spesso in queste gare che causano non pochi problemi E quindi capisco benissimo chi si incazza per la sosta delle nazionali Ma non ci si può incazzare per la volontà di due giocatori che decidono di andare in nazionale Dopo che stanno riprendendo da un infortunio di lieve entità Francamente ripeto ho trovato queste polemiche da parte dei tifosi pretestuose inopportune Pretestuose perché chi le ha caricate parecchio in genere è uno che ha una particolare antipatia nei confronti di questi due Per cui possono scorreggiare arcobaleni verranno insultati perché scorreggiano arcobaleni Non capisco questa deriva del tifo praticamente Non sto dando patenti È un modo di tifare che io non condivido Perché questa roba qua che loro comandano la nazionale italiana Hanno vinto gli europei dovrebbe inorgoglierci in realtà Perché spesso prima ci dicevano questi qua vanno in nazionale Perdono i titoli e non vincono La nazionale non vince per colpa di quei due E hanno vinto e attaccatevi a sto Kaiser Ragazzi miei Cioè dovrebbe essere una cosa un orgoglio per la nazionale Cioè per noi tutti avere nella nazionale due giocatori come Chiellini e Bonucci Che stanno lì al comando Però se proprio vogliamo di nuovo analizzare tutta la vicenda della leadership Io ci sto Se poi mi dite che i giovani devono avere più spazio Che i giovani devono prendersi la Juve in mano Perché ovviamente sia Chiello che Bonucci Nonostante l'impegno nel club che non viene messo da parte mia almeno sotto processo È normale che mentalmente mollino un po' meno Cioè è normale È normale Ma è umano E fa parte della natura umana Cioè quando tu hai dato tutto Ma proprio tutto per il tuo club Però continui a impegnarti eccetera È normale che La presa che avevi 4-5 anni fa Non ce la puoi avere oggi È normale Perché il fisico ti richiede un certo recupero Perché magari anche mentalmente hai poca voglia di sbatterti come un tempo E quindi questo compito spetta chi è più giovane Chi ha più anni avanti E deve tirar la carretta per più anni Chi ha quest'idea qua Ovvero i vari chiesa I vari locatelli Che possono tirare la carriola per diversi anni Devono iniziare ad avere un pelo più polso all'interno della squadra Per questo io vi ho parlato di leadership Di continuità della leadership Che deve passare inevitabilmente da Bonucci, Chiellini Anche a questi qua Si può essere leader tutti insieme Poi qualcuno ci mette la maturità dalla sua L'altro ci mette la sfacciattaggine La voglia di ammazzare tutti in campo Come chiesa, locatelli eccetera E si crea una miscela abbastanza interessante Però ritenere questi ragazzi giovani Che devono tirare la carriola per anni e anni e anni Come dei giovinelli inesperti Non giova nelle dinamiche di gruppo Questo dico E questa è la tematica Non il fatto che Chiellini e Bonucci Si siano riposati per andare in nazionale Perché non si sono riposati Perché poi Chiellini è rientrato Quindi ci sono anche le mali lingue Che alimentano queste cose E non va bene Ci incazziamo spesso con i giornalisti Che vanno a distorcere determinate cose In questo caso la distorsione è arrivata dai tifosi E qua che non va bene Ok? Per il resto ragazzi Io ripeto Ognuno ha le sue preferenze Può piacere o non piacere Chiellini e Bonucci Si può preferire qualsiasi altra cosa Io dico che De Ligt per me deve giocare sempre i titolari Poi si alternassero loro due addirittura No Però capisco anche che De Ligt Non è che può fare tutte le partite Che ogni tanto Chiellini e Bonucci va messo Poi ripeto De Ligt l'impiego È abbastanza importante Se andate a vedere il minutaggio È uno di quelli che ha giocato di più Ebbene così È giusto così Perché deve diventare un leader di questa squadra Un uomo importantissimo Ecco E va benissimo Però l'argomento non può essere la polemica O l'impegno di Chiellini e Bonucci nazionale La polemica deve essere tutta legata Sul fatto che la Juventus Quando andranno via loro Allo stato attuale delle cose Io fatico a inquadrare i leader Vedo dei potenziali leader Ma che ancora leader non sono E bisogna investirli In che modo? Con il giudicarli Prenderli in esame Come se fossero dei uomini importanti di questa squadra E ripeto E non dei giovinotti O dei giocatori che devono migliorare sempre In tutto e per tutto Che devono migliorare tecnicamente Ne sono Cioè sono d'accordo Però se ne parla come se fossero dei nubi Dei novelli Invece è già gente navigata Cioè De Ligt ne ha visto E di cose Chiesa sta iniziando un po' a vedere A tastare dei campi importanti Quindi è importante che vengano valorizzati Da questo punto di vista Tutto qua Polemica per me Assurda Ok pretestuosa E forse un po' più cattivella La cosa che dispiace è vederla fatta dai nostri tifosi Tutto qua Tutto qua Però aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti ragazzi Un abbraccio Se ci sono novità farò video di sera Altrimenti anche nulla E ci vediamo domani Che gioco anche la nazionale Domani se non vado errato Cercheremo di analizzare qualche altra cosa Ci aspetta un fine settimana Che scopiettante Che ci sono due video Niente male Niente male Un abbraccio a voi ragazzi E grazie per l'attenzione E sempre fino alla fine Forza Juventus Ciao Ciao Ciao